Ciao ragazzi e ragazze, questo nuovo breve video in realtà, in questo momento c'è una che star, una che star speciale, è un mio collega omosessuale, no non è vero, stai tranquilla Barbara, la ragazza si chiama Barbara, insomma tranquilla non è omosessuale, insomma almeno per ora non si è ancora svegliata, poi magari chissà, magari uno di questi giorni risvegli e dice, mi piace l'uomo e diventa omosessuale, no? No, non penso, non penso, pure io penso di una ragazza, è troppo innamorato, e niente ragazzi, abbiamo finito di lavorare tutti e due, come vedete è imbarazzato, no non è vero, non è imbarazzato, è tranquillo, e niente ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti, io quando, ah devo guardar qua, giusto, guardate là, non mi oriento con l'iPhone, sono abituato con l'altro Mac, con il Mac, niente ragazzi, questo è tutto, un breve video così, tanto per perdere un po' il tempo, e ci vediamo presto con un nuovo video sul canale, ciao! Piccolo appunto, giustamente mi faceva notare il mio simile collega, che ho detto una cazzata, cioè non è ragazza, felicemente sposato, moglie, moglie, giustamente moglie, che cavolo, mettiamo i puntini su lei, giustamente, e niente, questo è tutto, ciao ancora ragazzi! Ciao!